Mi ha confermato ovviamente pienamente la sua volontà di poter essere interrotta la terapia ventilatoria a cui lui era legato, come noi sappiamo, e ovviamente che questa cosa possa essere fatta a venire in corso di sedazione. Così Mario Riccio, medico anestesista dell'ospedale di Cremona, racconta come ha accertato la volontà di Pier Giorgio Welby prima di somministrargli un sedativo e staccare il respiratore. 40 minuti è durata la sedazione e poi Welby è chiuso gli occhi per sempre, dopo aver ringraziato i radicali per il loro aiuto. Un Welby lucidissimo, raccontano, e Pannella loda il medico che si è fatto a carico di rispettare la volontà di un malato. Certo, nessuno può pretendere dai medici di essere eroici, certo, si rischia 10-15 anni di galera, quindi chi può giudicare tutti i medici che non sono lui?